L'osso, tu? Alicane, che buco. Pronti se vuoi l'americano vuoi? Non è. Jackson, vieni qua, come in, Jackson. Non ci parli troppo sui passi, non capisci? Vieni qua, Jackson. Jackson, sit down, please. Facciamo le mare torno. No. Non sono ancora così importante. Ma lo sarò presto. Se ammazziamo la gente che ti dico io, ci guadagneremo un po' di rispetto. Allora la mia famiglia sarà importante. E tu diventerai più importante. Non ti scordare. In America, gli americani come te sono importanti solo se lavorano per noi. e specificatamente chi lavora per me. che sono uno con le palle. Che sono uno che ha quello che voi chiamate coraggio. Coraggio. Che sono uno cosa pigliare sulle pallottole. Chi lavora per me sarà un modo più importante. Entendete? Sì. Ora sai che dobbiamo fare? Sai che dobbiamo fare? La gente. Le picciotte. Credono ancora che io lavoro ancora per Tattagna. e nessuno si meraviglierà. Se mi vede a Gray Street. Se mi vede dove c'è l'albergo di Wilson. E sai che c'è Wilson? All'albergo di Wilson ci starà Dange. Ma che cazzo è questo Dange? Che cazzo è? Un giunzo è? Un giunzo. Nessuno penserà che noi lì non ci dobbiamo stare. So. Noi possiamo andare... Stasera. Lì. There. Ed entrare. Go in. Senza problem. With no problem. Un giunzo minchia. E ammazzare a Dange. E riempire di piombo. Ginchiere di piombo. In. E lì so. Un giunzo. E le so picciotte. Le so picciotte. Le so picciotte. E se donne. Io non ammazzo le donne. E tantomeno le buttare. E sono così belle. E a così udere per tutti i novaci. Amoni. Come on. Stand up. Because... We have a lot of work to do tonight. This is the beginning... Of my empire. America. In Italia. An hacia. E in Italia. In Italia. In Italia. In Italia. In Italia. Grazie a tutti